Due milioni e mezzo di anni fa, un giorno più, giorno meno, quando l'uomo non aveva ancora fatto la sua comparsa sulla terra, qui dove ora si scorge un paesaggio collinare, scolpito dal sol in estate e a volte celato da un velo nebbioso in inverno, qui c'era il mare, il mare astigiano. Un tempo, quella che gli studiosi chiamano età pliocenica, l'oceano occupava tutta la pianura padana, la linea costiera passava vicino a Torino e si estendeva a ridosso dei rilievi alpini, tutta la pianura padana era mare. La terra dove ora ci troviamo a quel tempo era una lunga e bassa isola che illimitava a nord il mar padano, mentre a sud le langhe formavano una penisola. In questo territorio la presenza di numerosi resti fossili terrestri e marini, che testimoniano un lontano passato, sono ancora oggi oggetto di studi e attenzioni turistiche. Siamo nel cuore del Piemonte, più precisamente nella zona del Monferrato Astigiano, terra laboriosa e contadina, ricca di storia e cultura, conosciuta nel mondo soprattutto per le sue grandi ricchezze no gastronomiche. Una terra ancora tutta da scoprire, per il suo paesaggio fatto di dolci colline e boschi che nascondono meravigliosi borghi storici e rilassanti percorsi escursionistici. Grazie a tutti. Alcuni di questi percorsi, idealmente definiti come sentieri, facilmente percorribili a piedi o a cavallo, traggono il loro nome dalla storia di queste terre, come la via dei Santi e dei Briganti o ancora la via dell'acqua. Sul confine del Pianalto, tra i comuni di Villanova, San Paolo Solbrito, Dusino San Michele e Val Fenera, è evidente il forte dislivello del terreno che evidenzia l'antica presenza di spiagge e coste marine. Quasi a ricordare ciò che riempiva questi spazi un tempo, la via dell'acqua è un facile percorso che attraversa il territorio del comune di Cantarana. L'elemento caratteristico di questo comune, immerso nella Val Triverse, è dominato dall'imponente campanile della chiesa dei Santi Giovanni e Dorotea, che è proprio la presenza di numerosi corsi d'acqua e dei campi sorgentiferi, che, benché siano poco visibili perché prevalentemente sotterranei alimentano gran parte della provincia di Asti e solo in alcuni casi ne scorgiamo la presenza. Il percorso ci consente di incontrare diversi luoghi che testimoniano la forte religiosità dell'area, da numerosi piloni votivi a chiese e luoghi di culto cristiani sapientemente curati e persino una chiesetta, ora divenuta santuario, come quella di San Pancrazio. Troviamo forti riferimenti all'acqua anche nel luogo di partenza di un altro sentiero, poco più a sud, che parte idealmente da Cisterna d'Asti e il cui nome rappresenta appunto la capacità di accumulo e distribuzione della preziosa acqua che serviva al territorio. È proprio da questo luogo che parte idealmente un altro sentiero, la Via dei Briganti. Il nome sta a ricordare un periodo storico di brigantaggio, legato ai conflitti nel periodo delle invasioni napoleoniche, che comprende il territorio tra il Roero e l'Alto Monferrato. Il territorio offre una serie di paesaggi di grande fascino, facilmente percorribili anche a piedi o con le due ruote. Qui il panorama è dominato da una natura incontaminata, che si sviluppa con tratti di fitto bosco alternati a dolci curve delle colline e rari nuclei abitati. La partenza di questo itinerario è idealmente fissata dal castello mediorale del comune di Cisterna d'Asti, un castello completamente restaurato e visitabile, che è ora sede del museo arte e mestiere di un tempo. Un percorso all'indietro nel tempo appunto dove riaffiorano antichi strumenti di lavoro e mestiere del passato. Il percorso prosegue verso nord. Non è raro incontrare alcuni siti che si trovano in dedicati all'informazione turistica. Alcuni di questi sono delle moderne opere d'arte, come quella presente sulla collina Belvedere di Ferrere, che ci invita ad osservare il territorio attraverso scorci geometrici ricercati e riflettere sul tempo che passa e tutto trasforma. Proseguendo giungiamo a Villa Franca d'Asti, dove merita una visita alla chiesa di Santi Eusebio ed Elena, un'opera del Castellamonte risalente alla metà del XVII secolo, di cui costanti restauri ed ammodernamenti fanno risplendere le sue bellezze d'arte gelosamente custodite della comunità. Poco più a nord, vale la pena visitare il sito con la pieve romanica della Madonna di Gulpiglio. Unica testimonianza di un villaggio distrutto dal Barbarossa nella metà del XII secolo. Un luogo incantato, meta ogni anno di tanti fedeli e turisti curiosi, da cui si gode un grande panorama sulle colline sottostanti. Da qui si ridiscende per arrivare in Val Triversa, con i suoi nuclei rurali e gli insediamenti contadini sui crinali nei territori di Roatto, Maretto, Monale, Cortandone, Baldichieri, fino a Castellero, quest'ultimo conosciuto per la produzione della nocciola. Celebrata ogni anno ad ottobre, in numerose sagre, questo prezioso affrutto dà origine a numerose prelibatezze conosciute in tutto il mondo. Un altro sentiero, chiamato la Via dei Santi, ha origine dalla Piana del Tanaro. Passa per San Martino Alfieri, località che prende il nome dalla nobile famiglia d'origine del tragediografo astigiano. Il suo percorso attraversa le colline Alfieri, seguendo i crinali e muovendosi parallelà al fiume. Proseguendo raggiunge poi Antignano, dove troviamo il Parco delle Rocche, immerso nelle colline del Barbera, Celleno Mondo e Tigliole, dove incontra la splendida pieve romanica di San Lorenzo. Superando il territorio di Tigliole, tocca in seguito i comuni di Baldichieri e Monale, dove incontra la Via dei Briganti, e proseguendo attraversa Montafie e Capriglio, per arrivare sino al celebre santuario di San Giovanni Bosco, a Castelnuovo. Osservare queste zone è un po' come osservare un museo a cielo aperto, anche se non le vediamo distintamente perché ci muoviamo sui segni lasciati dall'uomo nello scorrere dei secoli, in questa antica terra dalle radici marine, che il tempo lentamente corrode, ci sono innumerevoli segni di un passato ancora tutto da scoprire, attraverso i suoi innumerevoli sentieri. Grazie a tutti! Grazie a tutti!